A Termoli arriva... Sapevano di essere incensurati, che le loro impronte non erano nella banca dati delle forze dell'ordine e che i loro volti non erano quelli dei delinquenti schedati. Ma a tradire la coppia di rapinatori è stata proprio l'eccessiva sicurezza, perché le loro facce erano state riprese dalle telecamere di videosorveglianza e dopo un'accuratissima indagine dei carabinieri di Termoli sono stati individuati. Si tratta di due ragazzi di 21 e 22 anni, entrambi di Cerignola. Sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato in concorso e ritenuti responsabili di almeno due rapine ai danni della Tercas. La prima il 7 giugno a Campomarino, la seconda l'8 agosto a Termoli. 20.000 euro in tutto il bottino. Il giovane di 21 anni avrebbe agito solo in quella di Campomarino ed è stato anche riconosciuto come l'autore del sopralluogo in banca fatto due giorni prima del colpo. Era entrato nell'istituto di Via Favorita per farsi cambiare una banconota. Il ragazzo di 22 anni invece è responsabile di entrambi i colpi. Il suo volto riconoscibile anche per alcune caratteristiche, come un neo sul mento. Siamo giunti a individuare questi due soggetti, come vi dicevo, incensurati, quindi non noti, con le tradizionali indagini basate sull'attività informativa. Quindi abbiamo diffuso in ambito nazionale le immagini di due soggetti estrapolate dal sistema di videosorveglianza delle banche e poi abbiamo cercato su zone dove sospettavamo ci fosse la presenza di soggetti dediti a questo tipo di attività criminali. Abbiamo, come le dicevo, soffermato l'attenzione, abbiamo diffuso maggiormente le immagini avendo un riscontro positivo da Cerignola, con i colleghi di Cerignola, con la loro collaborazione. Siamo arrivati poi a individuare questi due ragazzi conosciuti dai militari del posto. Non sono stati ancora individuati i complici della rapina Latercas di Viedante a Termoli, ma i militari, guidati dal comandante Paolo Nichilo, continuano le indagini e sperano di poterli arrestare. I due si trovano ora nel carcere di Foggia in attesa di interrogatorio. Il procuratore, Ludovico Vaccaro e il comandante provinciale dei Carabinieri, Andrea Bertozzi, hanno sottolineato l'importanza della repressione, ma anche della prevenzione, con l'aumento dei controlli sul territorio, soprattutto nel periodo estivo in Basso Molise, dove aumenta la popolazione e dove sono sempre più presenti le incursioni della criminalità pugliese. Erano quasi sicuramente destinati allo spaccio sulla piazza Termolese gli 11 chili di Ascish, sequestrati dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria del comando provinciale di Campobasso,